Prima il litigio davanti a tutti, poi l'aggressione finita con calci pugni ed un coltello puntato alla gola. E' successo a Montevarchi, nei pressi di un centro commerciale. Un violento episodio che ha anche richiesto l'intervento da parte dei carabinieri allertati da una ragazza. I militari, raccolta la testimonianza della giovane e dei testimoni presenti, hanno accertato che si era verificato un litigio che inizialmente aveva coinvolto solo due donne, poi a dare manforte ad una delle contendenti, era arrivato anche un uomo che aveva inferito sull'altra, aggredendola con calci, schiaffi e appunto milacciandola con un coltello. Sono state quindi analizzate le telecamere della videosorveglianza della zona e il cerchio si è subito stretto su un pregiudicato dei 35 anni, residente in Val d'Arno. L'uomo, tra l'altro, è ai domiciliari dopo l'arresto per detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri l'hanno denunciato alla procura e chiesto un aggravamento della misura cautelare attualmente in corso. Successivamente si sono recati al domicilio dell'uomo e lo hanno trasferito nel carcere di Firenze.